Nuovo giorno, nuove notizie a mare dai publisher. Iniziamo con quella più rilevante, ovvero l'introduzione delle microtransazioni in Gran Turismo Sport. A partire dal 2 agosto, i giocatori avranno la possibilità di acquistare un'ampia gamma di vetture direttamente dal PlayStation Store, proprio come avveniva in Gran Turismo 6. Con quel titolo anche Sony si era gettata nello sporco e lucrativo mondo degli acquisti in app, alcuni dal sapore pay to win, e infatti da lì in poi le vendite della serie avevano subito un brusco calo. Ora si decide di reintrodurle in sport, con la differenza che in questo caso si mente ai giocatori. Durante varie interviste rilasciate lo scorso anno, Kazunori Yamauchi e i colleghi di Polifoni Digital avevano risposto con secchi NO alle domande che chiedevano se ci sarebbero state microtransazioni nel loro prossimo titolo. Un po' come Ubisoft con The Division, vi ricordate no? Prima rassicurano i potenziali acquirenti con falsa onestà e poi mesi o anni dopo il lancio li inculano con update improvvisi in modalità stealth. Il fatto è che da Ubisoft potevamo anche aspettarci una carognata di questo tipo, da Sony non tantissimo. Salvo rarissime eccezioni, infatti il colosso giapponese ha sempre rilasciato giochi di qualità senza speculare su DLC e microtransazioni a pioggia. Adesso però si è venuto a creare un precedente pericoloso. Si è mentito ai videogiocatori in modo veramente spudorato e con grande scioltezza anche tradendo la fiducia di molti fan per introdurre pratiche monetarie discutibili. Molto tristemente da adesso dovremmo iniziare ad essere diffidenti riguardo a promesse e dichiarazioni da parte dell'azienda di E-Rai. I publisher sono fatti così ragazzi, gli dai un dito e si prendono tutta la mano, figuriamoci quando gli si porge mezza chiappa. Peccato comunque perché Gran Turismo Sport si faceva bello proprio dell'assenza di acquisti in app al contrario del rivale Forza Motorsport 7 che le ha addirittura rimosse in questi giorni sorprendendo tutti. In questo modo Sony, dopo la figura di merda già fatta con il crossplay di Fortnite, perde altro terreno nei confronti di Microsoft che per quanto indietro in termini di vendite di console perlomeno dimostra un pizzico di buona volontà e rispetto del consumatore, seppur di facciata. Ma veniamo all'altra notizia relativa a un publisher decisamente peggiore, ovvero Electronic Arts. Allora, una delle poche iniziative non vergognose del colosso americano, offre la ditta, non so se avete presente, è stata misteriosamente, silenziosamente ritirata. In pratica per invogliare il pubblico PC a utilizzare Origin, Electronic Arts proponeva a periodi irregolari dei giochi totalmente gratuiti da scaricare attraverso quella ciofeca di client. C'erano dentro titoli come Dead Space, Battlefield 3, Dragon Age Origins e tanti altri prodotti di qualità che valeva la pena di recuperare. Tra l'altro erano gratis, quindi perché rinunciare? Solo che ovviamente niente dura per sempre, specialmente le cose belle. Basta regalare giochi, si torna all'Electronic Arts di sempre. Ma non è tanto la notizia della cancellazione di offre la ditta a farci riflettere. Piuttosto è il lancio appena successivo di Origin Access Premiere, ovvero la versione avanzata di Origin Access, che dà la possibilità agli utenti iscritti di provare giochi come Anthem ben 5 giorni prima della data di uscita, più altri piccoli vantaggi. Il catalogo racchiude al momento 129 titoli e costa 14,99 al mese, oppure 99,99 all'anno. Prezzi molto molto onesti. In pratica la versione sfigata e meno conveniente del Game Pass di Xbox. Dunque ci sono punti di vista discordanti anche in redazione riguardo gli abbonamenti. C'è chi preferisce pagare subito ciò che acquista, c'è a chi sta bene affittarli, tra virgolette, pagando un mensile. Il problema è che i servizi online di natura sono molto precari e c'è tra l'altro da considerare una grande disonestà da parte di certi publisher. Ora, oggi come oggi, ha senso qualcosa come Access? O meglio, ha senso introdurre Origin Access in questo modo? Bisogna considerare infatti che la concorrenza è già spietata e tra PlayStation Plus, Xbox Live, più Game Pass e Nintendo Switch Online, gli abbonamenti da pagare iniziano ad essere veramente troppi, immotivati e poco convenienti per le tasche del giocatore medio. Mettiamoci poi anche roba extra videogame stile Netflix, Spotify, Amazon Prime, eccetera. Cioè 100€ all'anno per un paio di tripline anteprima e un sacco di altre roba a cui probabilmente non giocheremo mai. Facciamo prima a comprare la Deluxe Dildo Premium Edition e quantomeno sono nostre per sempre, anche se qualche giorno in ritardo. Ricordiamo poi che Access Premier è disponibile solo su PC e qui bisogna chiedersi se ci sarà veramente il pubblico disposto a pagare. Forse se costasse qualcosina in meno. In ogni caso la paura principale che nutriamo verso questi sistemi di abbonamento riguarda i potenziali aumenti di prezzo e le modifiche contrattuali in corso d'opera. Se lo fa Sony può farlo anche Electronic Arts e niente garantisce che persino le 3 o 4 hit annuali come Battlefield, Anthem e FIFA non siano scadenti. Tra l'altro c'è lo spettro della frammentazione. Se dopo Microsoft e Electronic Arts altri distributori dovessero aprire il proprio servizio d'abbonamento, tutto il sistema diventerebbe sovraccarico e del tutto insensato. Chiaro che comunque si parla di una forma di vendita assai proficua. Si basa tutto sulla quantità in pratica, sull'offerta stracciata, anche se poi i prodotti in sé rimangono inutilizzati. Un nostro amico che lavora al cinema ci fa sapere che oltre il 60% dei guadagni nel settore viene da abbonamenti scaduti non sfruttati appieno. Con i videogiochi funziona allo stesso modo. Notiamo le offerte su Steam, Go, Gamble, Bando le compriamo in maniera compulsiva ritrovandoci poi con le librerie piene di titoli mai avviati. E allora ci domandiamo, conviene veramente abbonarsi? Allo stato e al prezzo attuale? Forse, secondo noi no, però staremo a vedere. Per adesso però vi lasciamo con una domanda. E se i publisher stessero spingendo sugli abbonamenti mensili anche in modo da aumentare ulteriormente il prezzo base dei giochi? Fateci sapere cosa ne pensate. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Vi invito a seguirci dai link qui sotto in descrizione. Su Facebook pubblichiamo news e contenuti multimediali, su Instagram immagini divertenti, giochiamo regolarmente su Twitch e il link è sempre qui sotto. Si sclera e si parla di videogame. Iscrivetevi. Se intanto il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e a condividerlo. Se non vi è piaciuto lasciate un pollice in giù e fateci sapere cosa non vi ha convinto nei commenti. E alla prossima.